Allora passiamo adesso a Chiara Deliso, premio Marco Pacuvio 2022. Buonasera a tutti, ringrazio per benessima volta tutti quanti voi, voglio dirvi che siete meravigliosi, voglio bene a tutti quanti perché tutti quanti portate l'arte, portate un'idea, avete da dimostrare e da dare, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie.